ciao dolcissime dolcissimi una piccola recensione di questo profumo true obsession da 100 ml acqua di colonia del perdon e l'ho pagato 4 euro e 90 testiamo questo profumo spruzziamo in aria speriamo che non mi cieco gli occhi diamo molto 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 buono ragazze ve lo consiglio ve lo consiglio ragazzi sono andata in negozi che vendono sia i profumi quelli originali e sia quelli profumi equivalenti e lo stesso profumo si trova anche nel negozio dei cinesi in un grande negozio di cinesi gli altri profumi equivalenti li ho presi dai cinesi questa volta ho provato ad andare un altro negozio e l'ho pagato lo stesso prezzo comunque ve lo consiglio donne di comprare questo profumo penso che sia versace così mi ha detto alla commessa poi non non so se diceva la verità o una bugia però a me mi piace e noi ci vediamo al prossimo video baci baci ciao 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 saluto giulio caligaro e flash 81 perché loro ogni video che fanno mi salutano ciao patati ciao